L'economia del bene comune è un percorso, non è una matrice solo di numeri, ma la cosa fondamentale è proprio il percorso per un'azienda, perché è da lì che uno vede veramente dove ci muoviamo. Triade Bio è un'azienda biologica, noi commercializziamo prodotti biologici biodinamici, siamo nati nel 1993 e abbiamo tre negozi nella provincia di Bolzano, come negozio abbiamo diversi prodotti, che sia l'alimentazione, ma abbiamo anche il cosmetico, abbiamo anche gli integratori, abbiamo prodotti di igiene, di casa, di pulizia. Come azienda adesso ci siamo dati dei criteri di assortimento, dove cerchiamo di inserire il maggior possibile anche dei prodotti biodinamici, chiaramente il biologico, quello è il primarius per tutto. Da quando eravamo giovani siamo sempre occupati di una vita più naturale, specialmente l'alimentazione era un tema che noi ci siamo sempre posti. E quando abbiamo incontrato l'economia del bene comune abbiamo finalmente trovato questo sistema come anche misurare quello che noi facciamo, un orientamento di come noi lavoriamo e di come vogliamo lavorare, ma anche di come vogliamo migliorare. Insieme a altri 24 imprenditori abbiamo fatto questo percorso, abbiamo stipulato il primo bilancio del bene comune nel 2011, con altri 3-4 imprenditori abbiamo fatto il peer evaluation, subito dopo la stipulazione del primo bilancio ci siamo impegnati a applicare alcune cose che ci siamo prefissi in quell'occasione. Due anni dopo ci siamo di nuovo incontrati per fare il secondo bilancio e lì abbiamo impegnati anche i nostri dipendenti. La maggior parte delle cose che nella matrice o nel manuale del bene comune c'è scritto per noi era già scontato. Il problema è di farlo percepire anche agli altri, agli nostri interlocutori, prima di tutto i nostri dipendenti, i nostri fornitori, tutto quello che ci circonda, i nostri stick holders. E questo abbiamo cominciato a fare con il primo bilancio del bene comune. Le nostre collaboratrici hanno appreso dell'importanza del loro impegno che hanno all'interno dell'azienda, cioè nel fatto che non è solo un posto di lavoro dove tu lavori dalle ore X alle ore Y e poi vai a casa, ma che anche loro danno un contributo molto importante per il cambiamento della società. Un altro aspetto che a mio avviso è molto importante è che loro hanno anche appreso quanto a noi è importante la loro crescita personale, cioè che loro non sono solo dei numeri che lavorano, ma che noi prendiamo anche sul serio, aiutiamo anche loro nella loro crescita personale. Perché secondo il bilancio del bene comune abbiamo fissato dei criteri per la scelta del nostro assortimento. Per noi questo era molto importante per la trasparenza, cioè ci sono richieste ogni giorno da parte dei clienti che vogliono fare e introdurre questo o quell'altro prodotto e noi diciamo che questo va bene perché questo entra nei nostri criteri, invece altri prodotti proprio non ci stanno. C'era un punto dove abbiamo detto che vogliamo più dialogo con i nostri clienti, abbiamo deciso di fare questa consulta. Abbiamo chiesto 10 clienti, così, che ci sono, che ci sembrano molto aperti, così, di aderire e ci siamo trovati diverse volte nel ciclo di un anno. Abbiamo sollevato diverse problematiche. Dobbiamo affrontare ogni giorno, per esempio, il problema del prezzo, il problema della riparabilità dei prodotti. Abbiamo cercato di creare la maggior trasparenza possibile per quanto riguarda il prezzo, come viene formato un prezzo. Anche la trasparenza dei stipendi. Ogni collaboratrice ha la facoltà di conoscere quanto guadagniamo noi, quanto guadagnano loro. C'era un tema anche dei rifiuti. Sulle imballaggi dei fornitori, dove ci siamo battuti tanto, purché loro cambiano proprio in imballaggi, in meno imballaggi e in imballaggi ecologici. Tanti prodotti li vendiamo anche sfusi, sono ricaricabili, riutilizzabili. Per quanto riguarda i prodotti che non sono più vendibili, o perché sono vicino alla scadenza, oppure per le verdure che non sono più così belle, li diamo a un ente che li raccogli ogni giorno. Quando io incontro un imprenditore dove ho la possibilità di parlare delle nostre esperienze del bilancio del bene comune, io dico sempre, nella nostra società abbiamo delle regole che ci fanno vivere bene insieme, per esempio il rispetto, per esempio la democrazia, per esempio l'ecologia. L'unico momento dove queste regole non valgono è nell'economia. E perché non devono valere l'economia? L'economia è la base della maggior parte della nostra realtà. Per cui io dico sempre, dobbiamo portare questi valori anche all'interno della vita economica. Nel nostro settore l'Italia che cambia è produrre sempre di più prodotti ecologici, prodotti bio. Io spero che la qualità dei prodotti in Italia aumenti sempre di più, riducendo sempre di più l'impatto ambientale. Per me l'Italia che cambia significa prima di tutto far parte di questo cambiamento e poi prendere un buon esempio da chi sta già cambiando qualcosa per poi moltiplicarle in altre realtà.